Immaginare il futuro di Pomezia attraverso le parole dei protagonisti, dal settore agricolo all'industria. Tanti temi toccati nel corso del convegno Pomezia Internazionale, il futuro della città, che si è svolto lunedì nell'aulamagna del complesso pometino di Selva dei Pini, presenti oltre al sindaco di Pomezia, Veronica Felici, Francesco Lollo Brigida, ministro dell'agricoltura e sovranità alimentare, Marco Silvestroni, senatore in quota Fratelli d'Italia, e Giancarlo Righini, assessore regionale della Giunta Rocca. L'aspirazione di Pomezia è quella di ampliare la sua presenza nella produzione agroalimentare, diventando protagonista non solo a livello nazionale, ma anche sui mercati internazionali. Stiamo lavorando ovviamente su tutto, in stretto rapporto con l'associazione di rappresentanza, col mondo agricolo, col mondo della trasformazione, per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che creino ricchezza in Italia. Non vogliamo più ricorrere al debito, non vogliamo svendere niente del nostro tessuto economico, ma vogliamo riequilibrare la ricchezza creandola, e quindi investendo sulle imprese e sugli imprenditori, proteggendoli, semplificando le norme, aiutandoli nell'export e aiutandoli ovviamente anche nel consumo interno di prodotti di qualità, perché l'Italia è la nazione della qualità, sulla quantità perdiamo sempre, sulla quantità possiamo perdere, sulla qualità non perdiamo mai. Ai microfoni di Radio Roma il sindaco Tipo Mezzia, Veronica Felice, ha spiegato l'importanza del convegno che ha portato in città, governo e regione. Oggi abbiamo voluto dare un segnale importante a questa città, a tutte le attività produttive, a tutti gli industriali, a tutti quelli che investono da anni su questo territorio e continuano a investirlo con coraggio e determinazione. Qui oggi abbiamo portato lo Stato. È un evento importantissimo, non so se è capitato in altra occasione un insieme di tutta la filiera di governo sullo stesso tavolo. Siamo per sottoscrivere un protocollo di intesa con un'industria insieme al comune di Aprilia e più stiamo valutando un protocollo di intesa con il Diretti per mettere giù proprio quei progetti che possano attenzionare questo comune anche dalla parte della filiera corta, quindi le produzioni e mettere anche in risalto le aziende che abbiamo sul territorio che purtroppo in questi anni magari non si sono sentiti integrate in una filiera.